La mia storia è un po' particolare, io ho studiato ingegnere elettronica e poi 5 anni fa, nel momento in cui la mia azienda di fotovoltaico andava benissimo, ho deciso di cambiare e ho aperto un'azienda agricola, Levo Lumache, Zafferano e Miele. Lui è Gabriele Conticini, un giovane agricoltore della provincia di Arezzo. Diciamo che lo si sceglie per uno stile di vita, perché ci si crede, perché cambiare e tornare a quello che sono i valori che poi hanno portato la nostra Italia a essere grande, sono quelli che partivano dall'agricoltura, ecco perché è la scelta fondamentale che facciamo. Assieme a Linda, Daniele, Valentina, Andrea, Francesca, Stefano e tanti altri giovani imprenditori, sono stati i protagonisti di Agri Young 2017, la sesta festa provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Arezzo che si è svolta nel centro storico di Cortona. Ma questa attività c'è un po' di tutto, perché ormai abbiamo giovani imprenditori, figli di genitori, di papà già imprenditori, ma ci sono persone che non centrano nulla con l'agricoltura, che si affacciano, che iniziano la loro attività, che quando ti senti parlare che arrivano a trovarci e ci dicono io già mi sono fatto il mio conto economico, penso di fare questa attività, voglio diversificare così, voglio fare l'altro, sicuramente c'è un segnale incoraggiante e ti devo dire che è un grandissimo stimolo anche per noi. Il dato occupazionale è in crescita, lo confermano i numeri raccolti dalla Camera di Commercio di Arezzo, ma la burocrazia resta l'ostacolo più grande. Mi viene da dire più che normare, tentare di normare tutto, normare meno, normare bene e magari lasciare libertà alla libera iniziativa, poi magari fate i controlli, fateli bene e fate rispettare quello che c'è da fare. C'è stato un incremento nel mondo dell'agricoltura dell'occupazione di un più 13% nel mondo dei giovani e questo mi fa particolarmente piacere e soprattutto un tasso di disoccupazione che era particolarmente alto in Italia ma anche all'interno della nostra provincia di un meno 5% nell'arco del 2016 dai ragazzi che vanno dai 16 ai 29 anni. In una cortona letteralmente vestita di giallo l'evento si è chiuso con un originale picnic in collaborazione con l'associazione Cuochi di Arezzo. Il segreto è che quando il prodotto è buono il cuoco è molto facilitato nel loro lavoro, logico dopo a sbagliare tutto e a rovinarlo ci si mette poco, però se si parte da una buona base di solito il risultato è più facile farlo.